A sei anni è stata eletta la bambina più bella del mondo. Ebbene, dopo undici anni ha rivinto nuovamente questo titolo, questa volta ovviamente però diventando la ragazza più bella del mondo. Stiamo parlando di Thaline Blondeau, attrice e modella francese che appunto a diciassette anni si è portata a casa il premio dei TC Candler 2018, ovvero quei premi che vanno a valorizzare le maggiori visualizzazioni video sui social network. E la Blondeau con i suoi quasi 3 milioni di followers ha sbaragliato la concorrenza e la sua bellezza oggettivamente è proprio indiscutibile.